Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della quinta settimana del nostro tempo ordinario. La liturgia della parola di oggi ci presenta sempre il primo libro dei re, siamo a capitolo decimo, i primi dieci versetti, e il pellegrinaggio che la regina di Saba fa verso Salomone. Un uomo così importante, così saggio, che la regina vuole andare da lui a metterla alla prova con enigmi, rimane stupefatta, in maniera positiva ovviamente, di quello che è la sapienza e la saggezza di Salomone. Io non credevo a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto, ebbene non m'era stata riferita neppure una metà. Quanto alla sapienza la prosperità superi la fama che io ne ho dita. Ed è bello perché Salomone aveva chiesto la sapienza a Dio, il quale gliel'aveva concessa. Quello che noi siamo, appunto, siamo dono per noi stessi e per gli altri. I nostri talenti sono un dono di Dio per la nostra vita e anche per l'utilità degli altri. E allora ecco che dobbiamo far emergere sempre le cose buone dal nostro cuore. Il brano del Vangelo di oggi, tratto da capitolo 7 di Marco, dal versetto 14 al versetto 23, Gesù chiama di nuovo la folla, dà un insegnamento importante, dice ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrano in casa, lontano dalla folla, i discepoli lo interrogavano su questa parabola, gli chiedevano spiegazioni. E allora Gesù dice, non avete capito che tutto quello che entra nell'uomo va a finire nella fogna, mentre tutto quello che esce dal cuore dell'uomo, e quindi fa un elenco Gesù, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Ecco, allora cerchiamo di eliminare un po' queste impurità. Chiediamo al Signore sempre di più un cuore, un cuore che sappia amare, di un amore sincero, come saputo amare lui, e quando ci accorgiamo che delle impurità sono nel nostro cuore, cerchiamo ecco di eliminarle dalla nostra esistenza, per non contaminare tutta la nostra vita. Ecco allora la bellezza di quello che è scritto nel versetto del Vangelo, la tua parola Signore è verità, consacraci nella verità. Buona e santa giornata a ciascuno di voi e ci vediamo domani per il nostro appuntamento. Una preghiera speciale oggi però la vorrei chiedere per mia mamma che oggi compie gli anni. Un abbraccio fraterno, grazie a tutti quanti voi e per le preghiere che volete rivolgere al Signore e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.